Case popolari inquilini morosi e lotta contro i furbetti, l'Ater di Chieti manda le prime cento di fide, giro di vite contro chi non paga l'affitto e gli abusivi. Ad annunciarlo il presidente Antonio Tavani e il direttore generale Giuseppe D'Alessandro, chi ascoltiamo. Sì, abbiamo avviato un'azione su impulso del consiglio di amministrazione della presidenza dell'Ater di Chieti di normalizzare il rapporto che corre tra l'azienda e i propri inquilini. Chi ha il diritto giusto, sacrosanto, di vivere in un alloggio popolare ha dall'altro lato il dovere di contribuire per quanto di competenze e per quanto è il suo reddito al pagamento del canone. Ecco, noi abbiamo monitorato questo tipo di situazione e vi sono dei fatti che hanno cronicizzato il rapporto e per questo da un lato vogliamo aiutarli, dall'altro lato essere fermi che chi non paga il canone dell'alloggio sociale deve essere messo nelle condizioni di uscire da quell'alloggio e dare questo diritto ad un'altra famiglia, ad un'altra persona, ad un altro avente diritto perché ce ne sono molti, il disagio abitativo aumenta. Parliamo di numeri. I numeri in questo momento abbiamo fatto la prima iniziativa che sono 100 di fide, le prime 100 di fide che sono partite nei confronti di questi signori e delle loro famiglie che sono tecnicamente morose. All'interno di questa iniziativa noi vogliamo monitorare bene il soggetto perché ci può essere quella che noi chiamiamo l'amorosità incolpevole e proprio in questo momento della pandemia è ovvio che ce ne sono mostrate e ce ne sono molte. Dall'altro lato in questi casi aiutiamo con un piano di rientro medio-lungo a seconda della fattispecie e quindi a seconda anche dell'entità del debito queste persone e queste famiglie. Ma come dicevo prima è scontato che se ci sono i cosiddetti furbetti che vogliono vivere in un alloggio popolare e negare tecnicamente questo diritto ad altri noi non lo riteniamo corretto e quindi le prime 100 di fide sono uno stimolo e un esempio anche agli altri inquilini che devono essere informati che a breve arriveranno anche a loro di fide. Immagino ci sia anche una lotta agli abusivi. Assolutamente sì perché è l'altra faccia della medaglia, è l'altro elemento che chi ha diritto ad una casa è un problema che va affrontato con tutte le strutture deputate a ciò. L'occupazione abusiva è un reato e i reati vanno perseguiti e le persone che si immettono in un alloggio, in una palazzina arrecando disturbo, facendo reati, distruggendo talvolta la proprietà pubblica non è un argomento. Per questo la tolleranza sarà zero, zero è la missione che si è data il Consiglio di Amministrazione e la direzione ha il mandato di agire e per questo devo ringraziare la mia struttura, i collaboratori che si sono resi disponibili su questo sforzo ulteriore perché è corretto che queste attività siano ritualmente sempre attive e non straordinariamente attive.